Vittoria Storia Il mio padre è il padre di Tessa Non è possibile Scusami, perché non me l'hai detto? Io non vi avrei negato nulla L'ho fatto per proteggerti Da lui? Sì Vittorio dice che nostra madre ha preferito crescere te Piuttosto che dare un padre a me a Tessa Lui ti odia